Oggi chi investe nella pubblicità televisiva ha molto di più di un ritorno di immagine. Ogni investimento pubblicitario in più ti dà diritto ad un credito d'imposta fino al 90% dei costi sostenuti. La pubblicità televisiva, infatti, dà un vantaggio economico rilevante. Oggi, se investi almeno l'1% in più rispetto all'anno precedente, potrai godere di un credito d'imposta fino al 75% sul costo degli investimenti incrementali. Una percentuale che sale fino al 90% per piccole e medie imprese e start-up e che puoi utilizzare per saldare contributi erariali o IMSS. Articolo 4,1 Decreto-Legge numero 148 del 16 ottobre 2017, visibile sul sito presidenza.gov.it. Per maggiori informazioni, info at italiaduetv.it.